Signori miei, signore mie, amici bellini, amiche belline, perdonate, non ho il tempo di fare l'editing e poi vi arriva più presto, è tardi, è la notte, iscrivetevi al canale, mi sono guardato un pochino di questa partita, italiano è proprio perfetto per noi, non so che titolo ho usato, Vincenzo Italiano fa paura, perché Vincenzo Italiano fa paura a chi preferisce Conte, a chi vuole Conte a tutti i costi, a chi porta avanti una serie di fantasie che secondo me non poggiano su niente, ma l'italiano è proprio perfetto per il Napoli, sapete perché? Per una serie di motivi, prima di tutto, è divisivo, è già divisivo, questo non vuol dire che è perfetto per il Napoli, ma vi dico che è divisivo, nel senso che per apprezzare l'italiano bisogna studiare il calcio, e molti degli addetti ai lavori sono lesi, sono pigri e non lo studiano, preferiranno dire io ho gagnato una volta formazione, eccetera, eccetera, invece è affascinante, secondo me, italiano come allenatore, un allenatore molto giovane, un allenatore che ha fatto la sua esperienza e ne deve fare ancora, secondo me, ecco, inquadrano, è finita, inquadrano Mandragora, è italiano, sapete perché è perfetto, perché appena si concretizza l'arrivo di italiano al Napoli, ci sarà l'esplosione di tutti i giocatori della Fiorentina accostati al Napoli, è facile immaginarlo, no? Non convince Meret, non sappiamo Caprile, Terracciano, Terracciano che comincia, che non è titolare, ma fortiere a molto apprezzato da italiano. E non vogliamo aggiungerci Martínez Quarta, e non vogliamo aggiungerci Milenkovic che se ne parla tutti i giorni, e Cajode, vice di Lorenzo, non lo vogliamo mettere, tra l'altro mi rifiuto di parlare di Lorenzo accostato al Manchester United, poi all'Inter, tutte cose che va bene. Italiano è perfetto perché fa giocare la squadra, la Fiorentina creano, creano, non concretizzano, si avvicina sempre, vicinissimo a prendere la siringa, proprio nel nostro DNA, è proprio perfetto. Poi piace a De Laurentiis perché italiano è uno di quelli che fa girare molto la rosa, a volte è un po' testardo nel far girare la rosa, a volte lo fa, sembra quasi senza una logica, a volte proprio per lo sfizio di mettere sempre formazioni diverse. Se non segui tutta la stagione io non mi posso permettere di dire italiano qua, sbagliato italiano, lo sapremo quando sarà. Però è una questione, non vogliamo dire, il Nico González al Napoli, darà tutta una serie di possibilità giornalistiche. vi potete divertire sotto a scrivere la vostra, per esempio Ranieri, che potrebbe essere un altro uomo di Giuffrida, quello Giuffrida evidentemente avrà detto pure prendimi Ranieri al Napoli e poi se non prendi Ranieri io comincio a parlare con l'Inter per Di Lorenzo. Vedete, si può fare il giornalismo in una serie di modi alternativi e creativi. L'italiano divide, l'italiano dividerà, l'italiano sarà fatto a pezzi dalla stampa se non viene protetto bene. Ecco perché la scelta di Manna, non lo so, dipende veramente da cosa gli facciamo fare a Manna, perché serve uno, perché se tu fai tutto poi giovane, è un altro rischio importante. Se tu Manna lo prendi e lo affianchi ad un altro personaggio, ok, ma se è sempre dell'Aurentis che fa e poi Manna vediamo quali saranno i suoi compiti, ecco ad italiano dovresti aggiungere un direttore sportivo proprio serio, importante, che faccia anche quell'altro lavoro che ha fatto Giuntoli, Giuntoli che è diventato quel tipo di dirigente con il tempo. Insomma, l'italiano secondo me diventa sempre più concreta come idea perché se le alternative sono quelle là, facciamo l'italiano e Conte insieme, eh? Così uno si porta a Coppomain, no a Coppomainers no, a Coppomainers va la Juve, uno si porta a Lukaku, ecco che hanno detto Lukaku, odio queste cose, si porta a Lukaku e a Kuluseski, mentre italiano si porta a Anzolà e perché Mandragora no, non ci serve quella mezzala perché non sappiamo se Traoré, che golo che ha fatto Mandragora non sappiamo se Traoré viene riscattato, è una scelta difficile e dobbiamo ragionarci bene l'esperienza di Bonaventura non te la vuoi portare dietro, insomma non ha una cattiva scuola Maxime Lopez, eh? Maxime Lopez, lo stesso Arthur sarebbe perfetto per fare a vice Lobotka o per fare quello che deve sostituire Lobotka, signori non abbiamo certezze, questa è la verità in questo momento nel Napoli non ci sono certezze perché se l'unica certezza è di Lorenz almeno perché capitano, rinnovato e escono queste notizie qua, vuol dire che non abbiamo proprio certezze, non sappiamo che pesci pigliare e attenzione perché poi sta per arrivare una partita contro Palladino che resta uno di quei profili che però magari deve fare ancora più esperienza perché italiano almeno un po' di esperienza nella conferenza, vedete come tutto ritorna e tutto ha un senso logico, poi non sempre il Napoli fa cose con senso logico, no quello si arriva a Conte con Banna, 200 milioni sul mercato, ma dove? Sotto quale punto di via? Ma quello si vende così, ma perché non ci siamo venduti a Kim e comunque quei soldi non sono stati reinvestiti, quindi non fate 2 più 2, non fate 2 più 2 perché col Napoli non si può sempre fare 2 più 2, il Napoli spende come tutti gli anni i soldi che deve spendere per non pagare soldi inutili di tasse, questo è quello che dobbiamo ragionare e ogni anno noi facciamo l'analisi del mercato e ci troviamo, ci troviamo sempre, ci siamo trovati perché il Napoli aveva delle spese da fare con Raspadori, allora ecco poi erano rimasti dei soldi e hai preso Lindstrom perché ti rimanevano quei soldi da spendere che probabilmente li volevi dare nell'operazione GabriVega, avevi fatto tutta una serie di programmi che non sono andati a buon fine, bisognava spendere quei soldi per non pagarli di tasse inutili e così sarà anche l'anno prossimo, se il Napoli prenderà tanti soldi da Ossimene è chiaro che li rinvestirà, ma come li rinvestirà? È quello che ci interessa. Insomma l'italiano è perfetto, l'italiano fa paura perché non lo giudico adesso, lo giudico quando lo vedo e lo voglio anche sentire parlare perché secondo me l'italiano sul campo può essere un po' cocciuto, però poi dobbiamo vedere quali sono le responsabilità individuali delle squadre che ha allenato, della difesa, perché si può fare anche meglio, anche avendo idee coraggiose, difesa al centrocampo e tutta una serie di cose che magari crescendo si impara e si migliora, però a lui o a qualsiasi altro allenato gli dobbiamo dare dei giocatori che stiano sul pezzo, quindi io quello che non so di italiano, io so come gioca a pallone e può anche piacere, quello che non so di italiano è quanto possa avere in pugno uno spogliatoio, quanto risulti credibile e quanto i giocatori si buttino nel fuoco per italiano e per quali obiettivi, la parentesi perché ho lasciato un 2x, 4-0 vince l'Everkusen, la Coppeten, perché? Perché giustamente si esce dalle coppe per concentrarsi in campionato, tutto con la K. Da New York, Valerio Fruido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, scusate se non sono a impostazione ma vi arriva più presto, quindi pensavate niente video e invece una cosa da dire l'ho trovata